Voglio parlare del giudizio. Io credo che uno dei grandi problemi alla radice delle nostre difficoltà di questo periodo o comunque dell'umanità sia il giudizio e soprattutto sia la cattiva interpretazione del giudizio. Il giudizio è un po' come, non so, chi giudica è un po' come i tirchi che dicono no, io non sono tirchi, io sto attento ai soldi. Oppure quelli che sono pessimisti che dicono no, io non sono pessimista, sono realista. Così lo stesso, spesso si giustifica il nostro giudizio con altri comportamenti. Per questo è che voglio sottolineare la differenza. Userò queste tre parole, discernimento, discriminazione non giudizio. E spesso vengono confuse. Discernimento. È certo che per uscire dal caos, dell'uroboro, della confusione mentale, dei sogni, dei desideri, dell'inconscio, è necessario che io sappia discernere. discernere questo è questo e quello è quello. Questo sono io, questo sei tu. Una certa cultura, una certa etica considera questo bene e questo male. È assolutamente fondamentale il discernimento, è la partenza. Una certa scienza dice questo, altre persone dicono questo, altri dicono questo, discernimento. Discriminazione, ovviamente. Quelli che dicono questo vanno emarginati e quelli che dicono quello vanno favoriti. Quelli che dicono questo vanno limitati, vanno messi in condizioni di non nuocere, non vanno ascoltati e quegli altri vanno privilegiati, seguiti. Questa è discriminazione, come la discriminazione raziale, la discriminazione sessuale, che ha la sua radicina in giudizio. Cioè, tu credi quello e quindi sei ignorante, sei credulone, sei dogmatico, giudizio. Io credo questo, quindi sono scientifico, razionale, concreto, corretto, consapevole, via di seguito. Quando usiamo il verbo sei, stiamo attenti, perché stiamo giudicando, cioè stiamo mettendo sopra il discernimento una nostra personale valutazione, cioè svalutazione di chi non la pensa come noi. Però discernimento e giudizio sono molto spesso confusi e finiscono nella discriminazione. Questo sta succedendo oggi, questo è, a mio avviso, uno dei mali, uno degli aspetti di questa pandemia emozionale. Quindi cerchiamo di stare attenti. Qual è l'antidoto al giudizio? Osservazione consapevole. Io osservo i miei pensieri. Osservo tutte le volte che dico tu sei e cerco di cogliere la vera natura, da dove viene questo mio pensiero, questo mio giudizio. La medicina, osservazione, accettazione e consapevolezza. Possiamo provare.